Musica L'altro non abbastanza Non è una pomiciata Io non si ma come è Oltre E' stato veramente forte La ringrazio 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 E' uno R La motivazione Perché era La motivazione Perché siamo tutti qui Nel nostro 64 anni Questa è la vittoria Non è tanto la stecchia la cena Questo è il quattro Non è stato 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 il quattro Allora passiamo al quattro Grandissimo Il nostro Questo è il quattro Questo no Pericoloso E' pericoloso Guarda qua Guarda come è stato il quattro Guarda come è stato il quattro Guarda come è stato il quattro Se ne fosse la maglia cosa a fare De Winner De Winner Franco è un fenomeno Se lo dai un bacino Mi diceva Chiamasi bacino Parte del corpo Sopra l'alba Non mi dico Sicché il bacino ragazzi Mi bacino Tenta me Allora Si peggio peggio Ora è più seria Ora è più seria Ora è più seria Grazie Ecco Pronti Mauro Madonna Pronti Mauro Non pensavo di vedere Stato Ecco Pronti è qui Ma sai era così anche Anzi era più giovane anche prima Ciao Mauro Guarda che viene spittando un vecchio Ciao Ciao Mauro Ha fermato il terzo Ho fermato il terzo Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Ho risparmiato una medaglia ragazzi Ho risparmiato una medaglia Perché il Capastone non è venuto Purtroppo il Capastone Purtroppo il Capastone Ma sai forse non E io anche io guardo Il Capastone è venuto venire Ti avrò scritto 6.000 messaggi Ho telefonato 18 volte Manca una donna E ora chi c'è? Ciambelloni Ciambelloni Maccini Sergio Ecco Non mi c'era Presente Come si fa? L'uomo della clorofilla La clorofilla La distillazione della clorofilla Della clorofilla Io non lo so Guarda la Ci siamo E anche più alto Guarda che premiazione Brava padre Grazie Grande uomo Grazie Con maggiore Si ma dietro a un grande uomo C'è sempre una grande donna La Gea La ricordi la Gea? La Gea Pronto? La Gea Ma ancora È diventata poi La Gea Ma quest'anno Moglie Si Moglie Ma Ma sarà quante anni è che stiamo insieme? Io Aveva 16 anni Se non ha 64 No riuscivo a passare 48 Ma non me la ricordo L'istituzione Scusi Scusi Complimenti 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 Ah Hai cambiato Il telefono Tutta la roba è sceglita Allora Se ci fosse Purtroppo Questo signore Non c'è Questo signore Non ce l'abbiamo purtroppo Dai Ti devo lasciare Paola Ciao Ciao Ragazzi un attimino Purtroppo questo signore Non ce l'abbiamo Il nostro Casini Alessandro Eh Scusa Fanno casino come a scuola Guardi Sì Il nostro Casini Alessandro Non ce l'abbiamo E Teneva così il ciambellotto Ti ricordi? Si Così stava Così stava così Con piedi sopra Nella faccia del martello Questa è una stessa Una stessa Allora Uno lungo Uno lungo 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 Ma lungo eh Ma lungo Castellari Giancarlo Alto 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 Vai Fabio Ti metto la medaglia Io lo voglio il bacio eh Eh No no Poi no Vai C'è anche io Vai Ma non è stato tanto distante eh Che c***o Ti ragazzi Fabio lo sai Che qui gli dai un dito Ti fidano Ti fidano ogni cosa Ti riprende volentieri Allora un attimo Ragazzi un attimo di raccoglimento Un attimo Catalano Non ce l'ho quello Non ce l'ho quello Catalano Angelo Non ce l'ho quello Stamane quando facciamo un altro Assente giustificato Assente giustificato Ti chiamate Ho detto il capo Allora siamo Grazie Alessandro che non c'è Lauria Antonio Eccovi dato Il nostro Lisi Aspetta aspetta finiamo Finiamo Il nostro Lisi Luigi Ragazzi Ragazzi La sapete l'altra volta Si è fatto quella cosetta Che state tanti contenti Insomma La pizza chimica Andando a casa Si piace una cosettina simpatica Tutti contenti Troppo Troppo E ora Dopo Dopo Luigi Abbiamo il Marziali Marziali Alberto No No Eccomi Oh Ecco Calacresi Ecco E' un'attento E' un'attento E' un'ottima Ci andiamo Fino all'ultima Il fotografico Tu sei consigliere comunale Tu puoi Mi regalo a tutti quanti E' consigliere comunale E' consigliere comunale Può cantare? Consigliere comunale Lei l'abbiamo poi Consigliera comunale Eh? No Lei è sindaco Guarda c'è la fascia Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Sì sì Eh Marzolini Antonio Assente Dalla per venire C'ha avuto la sciatica stamattina Ah sì? La strega La strega Va bene Nocentini Enrico Nocentini Enrico Grande Enrico Guarda Ma ha fatto un mobbing In questi giorni eccezionale Grande Grande Oh Ragazzi Io sono mister fantastico No Ti fa portare il rosso La cammina per il tappeto Se no che fai Rosso lo dovevi fare Eh Eh Non ce l'avevo E' un rosso anche io C'è cadere C'è cadere Enrico Fina che porta? Cento fili? No 130 Ha portato a me 130 l'ha portato Eh Ma la signora Si Fai il coccodrillo Enrico Si perde No no E' bravo Ma Ma di fatti Lei è quello che diceva prima a lei Oh ragazzi L'unica donna che è 16 anni che mi sopporta Non è mica facile sopportare Ma di fatti Ma Lei Questa signora la faranno tanto Lei è un caso di studio Lei Eh Lei è un caso di studio Mi fanno prelievo di sangue Guardano Oh via via Non ce l'abbiamo fatto Non ce l'abbiamo fatto E ora Passa la parte Ritando a Franco Grazie Parti Sandro Vai parti Non per caso Non per caso Perché Nella classe è sempre stato un trainante Dai anche lui Trainami 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 Sempre così Traina Lui faceva coppia con Alessandro Con Alessandro Con Alessandro Sì Diciamo è quello che studiavo di più In modo per farvi calciare più bene A me non mi è riuscito Per esempio Guarda gli stiti Calcio fai eh Hai 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 ragione Io pentavo a calciare più non fuori Sandro Non vi ricordate ma Non fuori Ducatessa Attenzione Pasqui Franco Averi Pasqui Il nostro number one Sei sempre stato vicino a me Pasqui Eh Allora Quando c'era qualcuno Vaici te Vaici te Non è lui perché era quello Guarda C'è Dania perché ragazzi Ci ha salvato la vita Ci ha salvato la vita Però c'era Ancora Il video tocchiere facevano a caso Grassi Quindi erano sempre i grassi Si Quanto si è fatto vedere Poi ci fosse un altro ragazzi Li toccasso anche stasera No No Ci manca l'ultimo Pasqui Pasqui Pinzu Claudio Addio Io ci so Ci so io Si ho stato saltato Marzolini No Madonna perché me l'ha detto Dopo Marziali ho saltato uno centino Marzolini Dai, dai, accomodati. Ma scusi, ma l'ha uscito a Santa Otto? L'ha uscito a Santa Maria prima. Roberto l'ha uscito alla C, no? Sei emozionato, dai. Guarda un po' tu sei. Che tappelli? Eppure c'era qui, c'era qui. E perché l'ho saltato? Dopo il catalano. Ah, ci l'ho messa guarda su, poi c'ha un bellotti. Sì, ecco il catalano. Ne importa, ne importa poi si torni. Scusami, guarda. No, no, no. Claudio, il ginocchio. Ecco perché a lui lo chiamavano mai l'interrogazione. Sapete, guarda, che lo c'hai lì sopra. Quindi lo tengo così, anche io, per cercare il mio... Ho capito perché io lo interrogavo mai lui, ho capito? Si, si racconta tutto. Guarda, faccio la mente. Non è stata una bella idea però. Pezzuti Claudio. Applauso. Senza bascio però. Senza bascio. Senza bascio. Senza bascio. Senza bascio. Senza bascio te lo do io qua. No, 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 no. Ciao Claudio. Non importa, dai. Presenti. Oh. Il bascio te lo ho dato io eh. Quello che dai a lui. Aspetta, se lo devi dare a lui, salva meglio. Ragazzi, lui, capito? Eh. Non si è mai sposato ma le moglie del lato. Le moglie del lato ci parlassero. Ragazzi, il giochino era questo. Voi avete anche favore con me. Io c'ho un piatto pronto a mangiarli. C'è la medaglia per la Fabiana. Eh, eh. Dai, dai. Fabiana, dai. Le medaglie stanno facendo il bravaggio. Eh. Buon prodotto. Grazie. Ragazzi, mi si prepara la pallina.